Ogni giorno gli scrivo che mi ama, lui mi intima di lasciarlo in pace. Io gli rispondo, lo vedi che mi ami? Lui scrive, piuttosto che tornare da te, mi uccido. Questa è una chiara dichiarazione d'amore. La macchina è rotta e le schedeci sono solo da 50. Ma se io non ho il credito nel telefono, no? I messaggi ne arrivano lo stesso. Penso che sì. No, perché io ho mandato 28 messaggi da ieri, non hai ricevuto nessuna risposta. 7,50 doni. Qual è il tuo problema? Settiamo, qual è il mio problema? Che non deponi mai le armi. Sistema farmacopornografico. Una donna di 45 anni esce dal mercato sessuale. Sto con una, guarda. Sto con una. È una brutta rinrescita. Sto di merda. Se vuoi ti prendo appuntamento con lui. Ma chi è? È lo psichiatra di mia madre. In 5 anni di matrimonio, nemmeno un orgasmo. Ma adesso tutte così, dicono tutti che non vengono più. A me mi piace ancora tanto. Eh, piacerebbe anche a me. Lo diceva sempre, ma non tappoggiare nei locali pubblici, non tappoggiare. Mi prenderò la malattia di qualcuno che scopa tanto, magari. Allora prima che te lo dica qualcun altro, magari te lo dico io. Se stanno mi spasare. Ah sì? È già incinta? Beh, adesso io presto. Oh! Come on! We had a munch. I promise I'm a die. It's the last time I'll never have a week with lunch. We'll never have a quick lunch. Grazie a tutti.